Non possiamo dire che abbiamo avuto l'inizio di stagione che vogliamo avere, ma al momento stiamo bene, siamo un bel gruppo e abbiamo un bel gruppo di leadership che ci tendiamo forti. Noi dobbiamo concentrare solo su noi, qui il nostro spogliatore, il coordinatore e la società, non ascoltare tante voci di fuori. Sì, dobbiamo andare davanti, giochiamo domani a Villa e dobbiamo cominciare una nuova settimana e andare davanti. Cosa ne pensi del Villa? È sempre una squadra difficile da affrontare, soprattutto a casa loro. Sì, soprattutto sono una bella squadra a Villa, fa un paio di anni che sono top of the standings, soprattutto a casa, escono sempre forti. Noi dobbiamo, come ha detto l'altra domanda, dobbiamo concentrare solo sulla nostra squadra, dovrà migliorare ogni giorno e stare positivo, perché noi sappiamo che dentro il nostro spogliatore con la squadra siamo tutti bravi giocatori e sì, dobbiamo trovare di giocare insieme, uscire forte, trovare questa confidenza e fare gol. Non prendiamo gol e i nostri special teams dobbiamo essere meglio e quando tutto questo inizia a funzionare non ci saranno problemi. È un'altra domanda, è una cosa migliorata, perché è sicuramente un giocatore a un giocatore, ma credo, sicuramente, ci saranno sicuramente, ci saranno sicuramente, e così sono molto sicuro, che noi ci saranno vengono, ma non ci saranno. Ma, come dicevo, è un'einsa, non ci saranno bene, ma è sicuramente, il sistema è vero più e più, quindi, per cui, se si concentriamo ci saranno e lo faccio molto bene.